La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata nella casa del GFVIP, specie per alcune dichiarazioni fatte da Patrizia Rossetti La donna ha cominciato subito a farsi conoscere dai suoi compagni d'avventura rivelando dei particolari anche abbastanza intimi Nello specifico, la donna ha svelato retroscena sulla sua vita sessuale e anche su suoi problemi di incontinenza Questi, chiaramente, sono disagi che ha comunicato anche ad Alfonso Signorini prima di entrare nella casa, proprio per giustificare eventuali situazioni incresciose Vediamo nel dettaglio cosa ha detto I problemi di incontinenza di Patrizia Rossetti Patrizia Rossetti è tra le concorrenti di questa edizione del GFVIP La donna è passata dal vendere i materassi al diventare una protagonista del reality show Anche se sono passate solo poche ore dall'inizio del programma, Patrizia ha già sganciato delle bombe che riguardano la sua vita In primo luogo, parlando con alcuni coinquilini, la dama ha svelato di soffrire di incontinenza Nello specifico, ha svelato che, nel momento in cui avverte lo stimolo, deve necessariamente correre in bagno entro 15 secondi Questo, chiaramente, è un problema che ha dovuto fare presente alla produzione Il GFVIP, infatti, spesso ha dei tempi piuttosto serrati, per cui i concorrenti, almeno durante la diretta, sono costretti a rispettare delle tempistiche In più occasioni è capitato che Alfonso Redarguisse qualche partecipante proprio perché si fosse assentato durante la messa in onda Ebbene, a quanto pare per Patrizia sarà fatto uno strappo alla regola Patrizia fa confessioni intime al GFVIP nel corso del suo sfogo, infatti, Patrizia Rossetti ha ammesso che se non corre subito in bagno rischia di combinare il caos, pertanto, ci sarà un'eccezione per lei al GFVIP Ad ogni modo, questa non è l'unica confessione inaspettata fatta dalla protagonista Sempre chiacchierando con i suoi coinquilini, la donna ha rivelato di non andare a letto con un uomo da quattro anni La questione è saltata fuori perché alcuni protagonisti le hanno chiesto se russasse Lei, allora, ha detto di non saperlo poiché, dormendo sempre sola da oltre quattro anni, nessuno gliel'ha mai potuto dire I coinquilini, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere dinanzi la nonchalance con cui la Rossetti ha raccontato questi particolari alquanto intimi della sua vita Insomma, l'edizione di quest'anno sembra promettere davvero bene